Now, say my name ma non so perchè, chiro che si escapita, chiamarlo Keesuke però beh, Keesuke onda noi siamo quelli blu, eh giustamente io sono quello blu entra ma Jovi no, devi andare a te nuovo su esterno vai tu bella la valla per i turbi, i turbi va ti importa almeno il fallo, fa qualcosa, cioè fischia dai, entra, fai dai, dammi la scossa va, te me ne avevi segnato oh no, ma che cazzo le stai a dir non ci posso credere vaffanculo che sa, oddio che gol, cioè questo è il trapare ma no, ma com'è ma ma balde di aro tra l'altro, uno dei pochi gol che ha fatto balde con noi oh Jovinco se ne va Jovinco se ne va Jovinco se ne va Jovinco ma taci qua però, ti ho detto che è una pippa mamma, che tiro di merda che fa guardalo bella per Jovinco c'è i turbi in mezzo c'è ancora i turbi c'è sempre i turbi Jovinco tia bapass, puol caputtana che tiro di merda ancora i turbi al volo un po' io ho quando oggi è di nuovo a rai 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 se ne ho viva io ho fatto io ho fatto un testo di altruismo che ti ha asturi asturis asturis e ritorna storia io ho trovato un po' piccola curatore cc covacic 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 carica al sinistro mamma no niente è un assegno non c'è mappa nero ma fatti staverebbe bene tutti tutti fuori però mancuno in porta erogato non è nato e non c'è bello l'ha visto era eravigui però va bene comunque per cura covacicci va in mezzo ma non la passa lui con il suo caccia io ho po po ho po i ho detto ho detto un saldo proviamoci fin primo tempo incredibile 3 a 0 in 45 minuti 10 tiri in porta cioè 10 tiri l'ha visto e lei vede dal cazzo eccolo Giovinco era partito eccolo balde balde diav esagerato su quando sono o no o no o no ma che è sta storia bianic cacca cacca che trovo che non ho capito il giocchetto con pianici madonna che tiri testendo mamma mia guarda sto piano in corsa sto piano in corsa non è vero tagli un mezzo taglione eh vabbè c'è sta che mi fa il cito no ok no perché se no muo facciamo cioè stavola si si è tranquillo qua perché siamo stati clementi fino a mo ma porca puttana mo gliene fra marci 3 tranquillo proprio travali 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 eh trabasso però ma andiamo a col pirata con Giovinco che buona idea l'ho fatto basso però non è riuscito ho provato solo 2 volte oddio guarda che fede voglioni eh via 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 oh cazzo oh che oh come che 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 cristo siete tutti travali ehm vai però eh scatta comune via e non mi passa stai agendo a campo perché tu scatta ma c'è la rivolta l'azione guarda l'azione vedi tipo così ancora ancora guarda mongoloide che cos'era perchè fastidiri sei un tiroleccio no l'ho visto è buono e va bene comunque il t che cazzo va bene va bene la squadra c'è si si campioni del cuore oh rigore 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 affanculo porca troia eeeh numero ancora ancora di prepotenza proprio astori astori oggi meno 2 match che paolo ma come farlo mai più mai più eh ma come fai se farlo mai più eh incredibile oh se non vado oh oh a novantesimo c'è un brivido della partita 10 e qui vittoriosi trappanì no vittoriosi